Come è? Hai detto che scendevi? Eh eh, sei spagliato. Così che... Quanto tempo è che andiamo a scendere? Da che parte la fa? Andare, andare, vai, vai. Fai che mi fai scontrire la piazza. Lì devi venire in su senza fermarti, lo fai. Si. Eh? E' un po' un problema, però. No, dico, se ti fermi che lo guardi. Quello la che diceva, ah, io vado giù di qua, vado giù di qua. Ah, dico, dove è andato? Ma che curva alla Boxer che ha fatto? Ma sapete dove sale? Vabbè siamo qua in tre, da qualche parte lo mandiamo indietro. Vabbè che lui lo indovina, eh. Ma arriva. Quanto è una tassata? Perché scivola? Però non è brutto. Poi sei venuto su proprio... Anche se è pesato, se anche lo prende in mezzo, perché mai scivola la cosa? Eh, vedi che scivola, perché questo è il sasso quando hai anni che non lo fai più. No, ragazzi, mi raccomando, questo è un quintale, non per altro. Eh, vedi, questo è bello pesante, eh. Quanta chili di fanci. Io qua, guarda, è già morto. È già morto. Che da cacciare? Che da cacciare? Che da cacciare? Che da cacciare?